Ricchi sempre più ricchi, se in questi anni di crisi e austerity esiste qualcuno che non ha dovuto stringere la cinghia, sono loro, i super paperoni. A dirla tutta, la cinghia loro l'hanno addirittura allargata, sì perché secondo i dati del Boston Consulting Group, la ricchezza finanziaria personale globale nel 2018 è aumentata del 12% rispetto all'anno precedente. Un tesoro da 202 mila miliardi di dollari, in pratica due volte e mezzo il prodotto interno lordo mondiale è nelle mani di pochi super ricchi. L'1% detiene infatti più ricchezza del restante 99% della popolazione mondiale, mentre 1 su 10 vive con meno di 2 dollari al giorno. A guidare la classifica dei paesi che detiene il patrimonio più cospicuo sono gli Stati Uniti con 80 miliardi di dollari, seguita dalla Cina con 21 e il Giappone con 17. Non va male neanche per l'Italia che nella classifica è all'ottavo posto. A dispetto dei conti pubblici il patrimonio dei paperoni nostrani è di 5 mila miliardi di dollari. Secondo il report sono 349 mila gli italiani che hanno un patrimonio di almeno un milione di dollari, un numero destinato a crescere, secondo le stime, nel 2022 saranno 519 mila. Un patrimonio basato principalmente su azioni, fondi di investimento e titoli di Stato, ma a favorire l'aumento dei capitali e dei super paperoni sono stati soprattutto l'andamento dei mercati e delle valute.